Sono Lorenzo, ho venduto con Omli d'Abitare. Ho venduto casa con Omli d'Abitare e mi sono trovato veramente, no bene, benissimo. Dal primo giorno con Daniele, il responsabile dell'agenzia, e poi con i due ragazzi che mi hanno seguito, Samuel e Giulia, per quanto riguarda la casa e la parte, diciamo, mediatica. Protetto subito, molto vicini, molto calorosi, sempre presenti. Lo dico veramente, con estrema sincerità. Ho conosciuto questa agenzia tramite un collega che me ne ha parlato bene e devo confermare che tutto è andato come lui mi ha detto, anzi, aggiungo anche meglio. Penso che Omli d'Abitare sia un'agenzia innovativa perché comunque fa in modo che la visibilità sia veramente massima, a 360 gradi, che è una cosa, secondo me, molto importante per l'acquisto di una casa. Ti porta dentro casa, quindi te la fa veramente vivere e ti fa pensare se acquistarlo oppure no. L'immobile è stato presentato sul mercato in maniera ottimale. I consulenti che hanno trattato la vendita della mia casa direi che sono molto professionali, però comunque ti fanno sentire anche a tuo agio, quindi nonostante se il cliente, tra virgolette, diciamo che ti trattano da amico. Omli d'Abitare la consiglierei assolutamente sì a chi vuole rivolgersi a gente giovane, innovativa, che ti permette comunque di poter far sì che la tua casa possa essere acquistata o venduta in maniera veramente celere.